Penso che purtroppo oggi forse chi segnava prima vinceva la partita perché abbiamo visto che i due portieri hanno giocato veramente bene, soprattutto il nostro, e siamo riusciti a pareggiare subito dopo il loro gol, però alla fine in due contropiedi ci hanno castigato e sappiamo che è la loro arma migliore e l'hanno dimostrato questa sera. I thought both goalies played well, I thought there was lots of scoring opportunities both ways, we had plenty of chances to win the hockey game tonight, I thought the main parts of our games, like the four checks, our breakouts, everything was as good as we've been all year, there were some details, some small details that we didn't execute properly and it ended up costing us the game in the end.